Siamo qui per un contatto. Amore, tempo, morte. Queste tre cose mettono in contatto ogni singolo essere umano sulla Terra. Desideriamo l'amore. Vorremmo avere più tempo. Ne temiamo la morte. Hai perso un figlio, Howard. Howard è un tipo brillante, creativo e carismatico che un tempo amava la vita, adesso la detesta. Provo a parlargli, cerco un contatto, ma è come se non ci fosse. E mi manca. Scrive lettere. A chi? Howard non scrive lettere alle persone, lui scrive le cose, al tempo, all'amore, alla morte. I bimbi scrivono a Babbo Natale, non per questo sono pazzi. No, è una cosa terapeutica. A chi hai scritto la lettera? Ho scritto una lettera alla morte. Molto piacere. Altrettanto, immagino. No. La gente scrive continuamente all'universo. Quasi nessuno riceve risposte personali, ma tu sì. Non mi interessa. Io sono il tempo. Sono un regalo. E tu lo butti via. Tu penserai che sono pazzo, ma intrattengo conversazioni. Io sono l'amore. Non cercare di vivere senza di me. Io ti ho visto nei suoi occhi quando lei mi chiamava papà. E tu invece mi hai tradito. Io sono la ragione di ogni cosa. Se riesci ad accettarlo, forse tornerai a vivere. interroga l'universo in cerca di risposte. Qui c'è in gioco infinitamente di più di quello che tu possa capire. Hai ricevuto un dono. Un profondo contatto con ogni cosa. Tu cercalo. Te l'assicuro. La bellezza collaterale.